Buon pomeriggio, è il lunedì di Pasqua e noi come tutti i palermitani siamo a fare la scampagnata dove? A Bosco di Cunza. Saluta. Ciao. Ecco, Vito che si presta a fare il solito barbecue. Questo è finito, siamo pronti per arrostire. Abbiamo fame. Vi faccio vedere un po' com'è la parte di Bosco dove ci siamo messi noi, praticamente è stra pieno di gente. Queste sono le cose che ci siamo portati noi per fare il barbecue. Cosa c'è dentro? Piedini, sticchiola e salsizza. Buono buono. Ancora cose ci sono, pensavo che avevamo finito. Ah, questa è la sabura, la carne di maiale. Abbiamo anche il vinello. Andiamo a mettere le cose sul fuoco. Sì, andiamo a mettere le cose. ahhh cruza la mangi no 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 oddio stavo stendo in diretta la mia caduta allora ok la l'acqua si mette per diciamo ammanzire il fuoco, se no diventa troppo forte per la fiamma diciamo che siamo stati fortunati a trovare questa brace perché come vi ho fatto vedere prima è incasinato, ci sono un sacco di persone, addirittura molti si sono portati la brace personale quindi noi purtroppo non ci avevamo pensato ma abbiamo avuto fortuna e allora la salsiccia è quasi quasi pronta e io aspetto impaziente con il piatto in mano come al solito, già abbiamo mangiato la salsiccia perché io ho avuto qualcosa sì questa è mia, saluta, lui è ancora indaffarato a cucinare io vado all'antica, mangia mangia, no io voglio la forchetta e il cortello, cortello io vi faccio vedere la mia fettina, piccola, c'è il vinello, abbiamo trovato alla fine il tavolo, ci vediamo dopo io mangio, ciao cosa stai cucinando amore? questa è solo una sigliola di agnello, altro non è che il budello dell'agnello avvolto questo filino avvolto in un pezzo di grasso, credo sempre dell'agnello non ne sono sicuro e c'è l'aggiunzione di cipolla buona e dopo la sigliola facciamo gli spiedini mentre aspettiamo di mangiare gli spiedini vi faccio vedere un pochino qua in giro il bosco anche se oggi è molto affollato io volevo spiegare qualcosina di bosco Vicuzza praticamente è una frazione in provincia di Corleone, sempre provincia di Palermo questo bosco praticamente era una riserva di caccia che era stata acquistata da Ferdinando I delle due Sicilie dove ha fatto costruire una casina reale che era proprio la sua residenza di caccia e tutto intorno c'era questo bosco dove lui e il suo seguito andavano a cacciare e attorno a questa casina si è creato proprio il borgo di Posco Vicuzza che è praticamente un paesino piccolissimo, sono poche case d'inverno è quasi spopolato ci sono pochissime persone che abitano qua 5-6 più o meno d'estate in queste occasioni invece diventa molto frequentato soprattutto dai palermitani che cercano la campagna low cost e finalmente anche Vito sta mangiando seduto al tavolo com'è amore? i bottini di carne con dentro cuvetta, formaggio, bacon è troppo buono cipolla è troppo buono mangia, mangia amore, buon appetito buon appetito abbiamo finito di mangiare abbiamo sparecchiato e adesso torniamo verso la macchina perché l'abbiamo lasciata proprio nel borgo, in paese e andiamo a piedi qua siamo sulla strada che da un lato porta al paesino quindi al borgo proprio e da questo lato che vi faccio vedere porta sopra verso la montagna dove ci sono poi tanti percorsi a piedi che si possono fare ed è infinito perché praticamente sale fino a sopra la montagna si può andare sia con la macchina che a piedi appunto noi l'abbiamo fatto pure a piedi vero? si il vito con l'infradito l'ha fatto a piedi ci abbiamo impiegato una giornata intera però è stato bello si ovviamente ci siamo portati da mangiare, da bere abbiamo fatto proprio tutto quanto ecco qua allora per ora vi faccio vedere il borgo qualche casa diciamo che a Ficuzza è tutto questo quindi case casette e come vedete già alla fine della strada non c'è più nulla perché praticamente il borgo è questo qua dall'altro lato ci sono altre case ci sono altre villette là c'è la nostra mobili posteggiata andiamo a vedere la casina reale con i portici che prima anticamente erano le scuderie praticamente e allora grazie a tutti 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 on one life trip ciao